Era fantastico ritornare in città e vedere i miei vecchi compagni, la società e tutti. Da stimolo c'è un altro livello, tutto è cambiato, come hai detto, ho un altro stimolo in più per fare bene o continuare a fare bene, aiutare la squadra come possa. Ti ritieni un giocatore arricchito da questa esperienza negli Stati Uniti nel tornare in Italia? Certo, sono molto migliorato, non solo dal punto di vista del basket, ma anche personalmente. Io non la chiamo esperienza perché non sono andato a provare e poi tornare a vedere come va, perché è un processo che continua e vedremo. C'è un arrivo a peso che coincide con il momento decisivo della stagione. Quando ti potremo vedere in campo e quando ritieni che sarai al livello più adeguato alla tua condizione atletica? Il livello c'è, sono pronto, sono pronto mentalmente e fisicamente e penso di giocare anche lunedì, però non dipende da me, dipende dal coach, dipende da come vuole gestire la squadra e tutto, però sono pronto fisicamente e mentalmente. Grazie. Grazie. Grazie.